A Venezia chi si è concesso la gita fuori porta si è mischiato con i primi turisti, molti provenienti anche dall'estero. In gran parte si tratta di turisti italiani ma si contano anche 10.000 stranieri per il 20% tedeschi, per il 15% francesi, poi sfizzeri e austriaci. Venezia riparte, ha scritto per l'occasione il sindaco Luigi Brugnaro. Benvenuti a tutti coloro che hanno scelto la nostra città comportandosi con rispetto. Oltre 100.000 presenze, un buon inizio di stagione dunque per quello che Zai ha definito l'anno d'oro per il Veneto. Vedo i dati delle prenotazioni dei turisti in Veneto che stanno incrementando decisamente e quindi dico venite in Veneto perché rischiate di mancare solo voi. Città d'arte colme di turisti, lunghe code per raggiungere le località balneari e incidenti che hanno provocato ingorghi nel 2 giugno di molti vacanzieri o pendolari. Complice il bel tempo con temperature estive, la festa della Repubblica per tanti Veneti è coincisa con la prima tintarella in spiaggia, pieno tutto il litorale veneziano.